Sono padre François-Marie Lettel, carmelitano, francese, regina apostola Rhum. La cosa che mi ha colpito di più, insieme a un altissimo livello accademico, cioè l'uso della ragione in tutti i campi, anche con le diverse facoltà, la cosa che ha più grande valore che ho trovato qui è un immenso amore della Chiesa, specialmente del Papa. Quando ho cominciato a insegnare era Giovanni Paolo II, poi Benedetto XVI, a Papa Francesco. Io ho visto un grandissimo valore e sono molto amico della congregazione dei legionari di Cristo, che è l'anima di questa facoltà, ma si è visto proprio come questo grande amore della Chiesa e concretamente del Papa era proprio una fonte di, direi, di apertura, di gioia e che questo anche dà all'uso della ragione una più grande purezza, una più grande sicurezza. Io direi, ho cominciato gli studi in Francia nel 68, in periodi di grande crisi, e a quel momento ho capito che le migliori teologi erano i Santi, che siano grandi pensatori come Tommaso, Agostino, o mistici come Teresa Davila, Teresa di Lisieux. E direi proprio in questo Ateneo ho trovato la migliore accoglienza, più che in tutti gli altri centri accademici che ho frequentato, un'apertura proprio a questa teologia dei Santi. Più che mai bisogna mettere in luce la santità della Chiesa, mostrare che c'è tanta santità nella Chiesa in tutti gli stati di vita. Allora questo Ateneo è molto aperto, anche una bella presenza femminile, anche l'Istituto per la donna, che per me rappresenta una cosa molto importante. Ma io direi che il primo, ricordo con maggiore affetto, il primo e l'ultimo. Nel 2000, il primo, che è stato il punto di partenza del mio insegnamento qui, partecipazione a un grande convegno sul cristocentrismo. E poi, ultimamente, c'è proprio l'ultimo atto accademico che ho vissuto, ma che per me era un po' il coronamento di tutta la mia attività qui, è stata la difesa di tesi, una tesi di dottorato in teologia, di un sacerdote nigeriano su Maria nel mistero di Cristo e della Chiesa. Secondo, San Luigi Maria di Montfort e San Giovanni Paolo II, due Santi che personalmente ho amato molto, che ho studiato molto. Direi proprio, era l'ultima tesi, l'ultimo atto. Anche un ambiente molto, molto bello e lì proprio ho vissuto come questa facoltà teologica ha accolto questo lavoro, come l'ha portato, adesso sarà pubblicato. Penso un po' di regina Apostolorum, c'è una forte presenza della Madonna, qui, patrona, nella dimensione della missione e continuerò a portare nella preghiera questa realtà e la mia destinazione sarà il convento dei Carmelitani di Lisieux. Ho molto studiato Santa Teresa di Lisieux, ho lavorato per il suo dottorato 25 anni fa, che è stato proclamato da San Giovanni Paolo II. Dunque, in questa prospettiva continuerò sempre a lavorare su questa teologia dei Santi. Teresa di Lisieux è stata molto presente anche nelle mie lezioni, è dottore della Chiesa, ma anche patrona delle missioni, una santa adesso anche riconosciuta dall'UNESCO e penso che avrà sempre un bel posto in questo Ateneo. Ho molto apprezzato il clima umano di questo Ateneo. Ho trovato una grande fraternità tra i professori, gli studenti, un clima proprio molto bello, anche a livello del dialogo, dell'accoglienza, una grande capacità di dialogo e direi forse più anche che negli altri centri che ho potuto frequentare. Dunque, ringrazio tanto, per me è stata una gioia, una grazia, di insegnare, dunque, 22 anni nell'Ateneo Pontificio Regina Apostolo.